Mejjai, aiutami! Sialode, un protettore dell'Egitto! Ti prego, siamo in serio pericolo! Tu sei Hadi, vero? Non ti chiederò come lo sai, ma per il futuro dell'Egitto dobbiamo fuggire! Come mi hai trovato? Come mi hai trovato, Mejjai? Ti ha mandato il capo Spir? Mi ha guidato la lista del centurione. Dio, Dio, Maganes, voi pisate para me! Bravo! No! No! Sensatum, as sepulcrum! Quimamitas, infernum? State! Volate! Sire versus Fueris! Codemo pro amichi! Et davo vos in consumationem! 你是誤据的 失敗 忍耐 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 Dai la lista? Con i nomi delle spie della Cirenaica? Sì, sei sopravvissuto tu e un altro agente di Apollo d'oro. L'ho liberato dalla caserma di Balagre. Hai reso un immenso servizio ad Apollo d'oro e all'Egitto, Mejai. Amon-Ra ti ricompenserà. 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 Oh 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 Non devo farmi vedere qua Oh 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 Morsi, e con l'udere sordina! 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 Morsi, e con l'udere! Morsi, e con l'udere sordina! 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 Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!